Il lato della messaglia è che ha annullato il Como, primo tempo perfetto. Quali quando? Eh sì, ma se con giochi di più... Per me sono tutte in casa. Ha una bella partita. Eh sì, però come ho avuto la messaglia, l'anno del primo tempo. Come è stato annullato praticamente? No, ma bene. Anche con il gioco... Io guardo in casa mia, nel Como ci hanno alleato del Bravo, parlare a lui. Parlare a lui. Io mi guardo a guardare in casa mia, a fare quello che devo fare. Mister, due gol presi in sei partite, un gol in tre partite, direi che è il dato al di là dei punti... Direi che stiamo facendo bene e che del resto, io sono convinto che poi alla fine dovremo anche soffrire, ci saranno delle situazioni brutte, perciò a me mi fa piacere la prestazione perché i ragazzi veramente sono stati veramente bravi, non viro palda, la secondità, c'era tutto, c'era tutto e mi fa piacere, mi fa piacere che hanno fatto questo tipo di partita qui dopo cinque vittorie. Questo è il segnale di maturità che ci fa besterare. E che quindi, quando ricordo gli allenamenti, sarà una settimana ancora più intensa del solito. Noi dobbiamo lavorare, quello che è stato è stato, noi dobbiamo guardare avanti, che ci possiamo fermare. La realtà è che oggi ando giocando bene, mi sognativo, poi vorranno anche i momenti più difficili. Mi spiace tutto per Cazzola. Molto, e la trovo anche molto ingiusta, perché Cazzola è stato tirato da dietro, lui è chiaro che va a cercare la palla, ma Cazzola a falli cattivi ne farà mai subito, piuttosto che gli fanno gli altri. Però lui ha permesso, il signor Agui ha permesso molti falli da parte dei giocatori del Como, senza morire. Cazzola la prima a fallo, diciamo, che poi l'aveva subito, butta fuori, cioè, nella troppa televisione. E anche il parere a metà. Posto? Grazie.